Buongiorno a tutti, buon sabato, ormai ultima settimana vera senza Inter perché la settimana prossima si ritorna tutti ad Appiano, si parte per Malta iniziano le amichevoli, il 5 contro la squadra locale, il 7 contro il Salisburgo con cui si sono iniziati a fare tutta una serie di discorsi e vedremo se si quaglierà in qualche direzione, sicuramente ci sono diversi giocatori interessanti non solo Okafor che ha una valutazione secondo me fuori mercato per l'Inter di questo momento 35 milioni, l'abbiamo più volte sottolineato a chi continuava a far rimbalzare questo nome c'è grandissima concorrenza, non solo il Milan, piace a tanti e costa parecchio Buone nuove ancora, basta vedere le storie su Instagram di Romelu Lukaku o della Federazione Belga le parole di De Bruyne ha fatto tutto l'allenamento, partitella con i compagni sembra completamente recuperato, incrociamo le dita addirittura qualcuno si chiede se possa giocare dal primo minuto domenica col Marocco secondo me farà un piccolo test, sperando che sia positivo sperando che sia recuperato completamente, non si rischi nulla però penso che già queste foto, la sua gioia insieme ai compagni, il suo allenarsi insieme ai compagni zittiscono tutta quella narrazione di Cialtroni che vi dicevano che fino a febbraio-marzo non avrebbe più potuto giocare adesso la speranza appunto che il Belgio lo restituisca all'Inter in condizione pronto per scendere in campo non mi sembra più il Belgio dei sogni, dei diavoli rossi capace di sorprendere e stupire il mondo tanto che ho sentito ieri sera Danilo Gallinari che diceva che tifa Belgio a questi mondiali mi sembra che siano tutti arrivati più o meno Hazard soprattutto, i difensori Alder Weireld però con Courtois in porta che ha dimostrato ancora una volta di essere top come sottolinea il Teccaldo più famoso di Youtube se riescono a recuperare Lukaku è chiaro che la squadra poi avrebbe tutta un'altra profondità tutta un'altra pericolosità e quindi potrebbe arrivare veramente lontano a noi questo interessa relativamente l'importante è che torni Lukaku in condizione e non venga corso il minimo rischio su un ennesimo infortunio che è proprio quello che poi metterebbe fuori il giocatore per quasi tutta la stagione non ci vogliamo neanche pensare a un'eventualità del genere nel frattempo ultima settimana direi di relax anche sul fronte Skriniar si tornerà a parlare del rinnovo di contratto da settimana prossima e l'obiettivo è chiudere entro Natale per dare un bel regalo a tutti nel frattempo Steven Zhang è a Boston e si è selfato mentre guardava una gara dell'NCL dei Boston Bruins e vediamo che cosa che cosa ci prospetterà il futuro questione mercato quindi dipenderà allora Prima di tutto la priorità su ogni cosa rinnovo di Skriniar ve l'abbiamo detto il vero colpo di gennaio deve essere quello di riuscire a rinnovare Skriniar e poi qualsiasi cosa viene di conseguenza punto rinnovi poi Dzeko poi Darmian secondo me anche Kordaz e D'Ambrosio mentre non verranno rinnovati Gagliardini che non si cede a gennaio perché si deciderà lui la squadra probabilmente anche De Vrij che non ha convinto pienamente comunque non chiede uno stipendio basso anzi secondo le mie fonti chiede addirittura di più di quanto ha attualmente evidentemente perché ha squadra inglesi disposta a dargli 5 milioni vedremo anche qua che succede vice non verrà rinnovato Andanovic da quello che vi ho detto da tempo si dovrà cercare un vice Onana si è fatto il nome di Cragno che potrebbe essere interessante anche se non sta giocando a Monza e non ne comprendiamo il motivo anche se Di Gregorio prodotto dell'Inter è un giocatore molto interessante si è però diffusa la voce che Ter Stegen potrebbe andare al Bayern Monaco a sostituire Neuer dal Barcellona il Barcellona potrebbe fare un'offerta abbastanza importante di una trentina di milioni per Onana all'Inter che a sua volta potrebbe diciamo cautelarsi e puntare tutto su Carnesecchi alla Cremonese dove ha spiazzato Radu dove gli ha portato via il posto da titolare dove ha fatto grandi partite come contro il Milan di proprietà dell'Atalanta cosa ne pensate? ok l'esperienza internazionale tutto quello che volete però secondo me sarebbe un'altra operazione da applausi prendi a zero vendi a 25,30 e poi ti vai ad assicurare uno dei talenti emergenti dei portieri italiani ne parlavamo in live qualche giorno fa la maggior parte di voi era contraria però c'era anche chi diceva comunque non è giovanissimo Onana qualche errore lo fa sempre piace molto per la sua personalità per i suoi rinvii e quant'altro però se ci fosse una possibilità del genere che ti permette poi di andare a rinforzarti in tutti gli altri reparti della squadra e di comunque andare a prenderti i Carnesecchi che secondo me è molto molto forte ma scrivetemi cosa ne pensate la gazzetta ripropone oggi il nome di Musa che non mi è per niente dispiaciuto ieri contro l'Inghilterra per la capacità la corsa il cambio di passo la fisicità lo ripropone per gennaio però io continuo a ribadire quello che è la mia linea che a gennaio non serve un centrocampista soprattutto se poi è un'operazione da 30 milioni ok che Musa è forte e che lo vogliono in tanti ma intanto non è a scadenza come Turam ma un'operazione del genere e dalle nostre fonti comunque il Valencia non se ne priverebbe a gennaio e tantomeno in un prestito vista la situazione finanziaria che ha vuole monetizzare ma poi non è la priorità secondo me come vi dico sempre serve prima di tutto un rinforzo importante per l'attacco che sia Turam o qualsiasi altro tipo di giocatore anche a sorpresa si è fatto anche il nome di Taremi complimenti all'Iran che ha fatto la sua prima grande vittoria ai mondiali in quella situazione così così difficile Taremi del Porto anche non mi pare per niente male però c'è a centrocampo adesso che torna anche Brozovic che c'è Aslani che ha i Mkhitaryan Barella c'ha la Noglu cioè mi sembra il reparto più completo che hai al di là della questione Gagliardini che poi puoi benissimo andare a sostituire in estate ma sarebbe Musa secondo me un colpo buono molto buono però un po' come Gosens l'altro anno che non ti serve che non ti serve per l'immediato tu hai a che fare con un Correa che è un punto di domanda gigante con Lukaku che speriamo che torni in condizione e finalmente si prenda sulle spalle tutta la squadra con Dzeko che a marzo farà 37 anni l'abbiamo detto devi cercare in tutti i modi di prenderti tu Ram di prendere comunque di utilizzare le risorse poche che ci sono per un rinforzo veloce per l'attacco un centroavanti veloce un esterno si è fatto anche il nome di Pulisic abbiamo visto ieri sera contro anche lui contro l'Inghilterra giocatore di gran qualità che il Chelsea visti buoni rapporti potrebbe anche dare in prestito e non sarebbe male stesso discorso di Ziyech che però piace più al Milan ma anche l'esterno marocchino io ci farei un pensierino oltre che a far rima parte che è gestito dal mitico Le Dür l'avvocato che è riuscito a strappare Lukaku al Chelsea a riportarlo a Milano insieme chiaramente a Big Rom e a quello che ha fatto la dirigenza dell'Inter e anche la trattativa condotta comunque con Sagacia da Steven Zhang per la difesa si fanno diversi nomi Scalvini piace molto ma costa parecchio non sacrificherei Fabian che sta crescendo esponenzialmente in serie B con la regina di Pippo Inzaghi potrebbe arrivare come ci disse Claudio Raimondi in una live nei giorni scorsi solo a giugno se uscisse uno tra Bastoni che continua a rimbalzare il suo Roma in Inghilterra tra Tottenham e Manchester City e il solito screener che ci aspettiamo che invece rinnovi presto con l'Inter per confermare l'anticipazione mondiale che abbiamo dato la sera stessa in cui scusate saltò la trattativa per Bremer se vi ricordate subito vi abbiamo detto verrà tolto dal mercato e si farà di tutto per rinnovargli il contratto adesso i tempi si sono un po' dilatati anche perché secondo me Skriniar si vuole prendere tutto il suo tempo dopo l'estate che ha passato non sicuramente rilassante e anche giusto così poi c'è tutto il tempo necessario per trovare una quadratura richiesta di 7 milioni dell'agente Sistici offerta dell'Inter 6 che con i bonus si può molto avvicinare come abbiamo detto 7 comunque la cifra la cifra che chiude ogni discorso si è fatto il nome anche di Gigi del Torino come rinforzo a zero anche lui assistito da Busardot che è un po' adesso il procuratore intermediario di cui l'Inter si serve principalmente per molte trattative quindi questo può essere un qui di in più però anche lì io cercherei di tutto per prendermi portarmi a casa Ndikà dell'Eintracht Francoforte che secondo me è di un livello maggiore rispetto a Gigi non ce ne voglia e rispetto anche ai nomi che si fanno è chiaro che anche in difesa soprattutto se dovesse lasciare De Vrij serve un titolare prestante uno che può giocare in mezzo o a destra spostando Skriniar centralmente e poi confermare il resto della difesa abbiamo comunque tutto il tempo del mondo per parlare delle possibili trattative che vedrà l'Inter impegnata la principale dovrebbe comunque essere quella che riguarda Gosens che il Bayer Leverkusen continua a seguire con tanto interesse più che Bacher io gli chiederei in cambio Frimpong che è però destro ma molto forte olandese se non sbaglio molto interessante e allora sì che lì possiamo trovare una convergenza anche perché vi ricordate insomma c'è questo canale aperto con il Chelsea che vorrebbe Dumfries non mi ha diciamo un eufemismo esaltato ieri contro l'Equador mi sembra ancora parecchio bloccato non si sa il motivo però qualche giornale scrive addirittura che la richiesta dell'Inter per Dumfries sarebbe di 60 milioni voi mi avete detto che io ne avevo parlato di 40 che sono già sarei già folle io però ragazzi se c'è la possibilità di avere un sostituto all'altezza Singo vi avevano detto che è stato rinnovato automaticamente di un altro anno e c'è anche qui la concorrenza della Juve però un frimpong da scambiare con Gosens se non riesce a fare uno scambio col Gladbach come avevamo suggerito poi si potrebbe fare il mio Adamatra Aurelo sta trattando il Napoli anche lui scadenza giugno e non si capisce perché non si vada su questi giocatori rapidi che fanno strappi che saltano l'uomo che fanno assist ci dobbiamo un po' rassegnare per la fascia sinistra se Gosens deciderà di andare via a gennaio abbiamo detto più che truffer il nome quello di Jesus Vasquez del Valencia che può arrivare in prestito quindi senza nessun tipo di esborso se non un ingaggio limitato che quindi è più più che fattibile più che fattibile passiamo all'angolo che vi piace di più non si capisce allora se sono già dentro o se Piff comprerà non si capisce adesso è stato preso come come Vangelo l'articolo di Panorama che che è stato strumentalizzato e noi ne abbiamo l'abbiamo criticato in versione pifferaia per chi non ha capito le nostre critiche non erano a chi l'ha scritto o a che cosa ha scritto ma come è stato strumentalizzato da chi invece sostiene che gli arabi abbiano già comprato l'Inter un anno fa e che lo stesso articolo va a sconfessare quello che era diventato il nuovo mantra il centro figure di Istanbul che con una relazione datata e con fonti datate come vi dimostreremo presto nel nostro speciale non fa che confermarvi la narrazione errata che vi fanno i soliti noti oltretutto vi leggo un passaggio che vi fa capire anche questi esimi studiosi del centro figure come scrivano anche delle scempiate scrivono la compravendita del club italiano si è conclusa a fine dicembre 2021 ma ma quando delegando una società terza al fine di non scontrarsi con le leggi dell'unione europea che vietano di essere proprietari contemporaneamente di due squadre l'unione europea semmai dell'uefa quindi vedete anche questi studiosi illustrissimi come poco ci capiscano e come si riferiscano comunque a fonti come il sito watan che si rifà al famoso ibt o all'articolo del marzo 2021 di giacomo galardini che scriveva a suo tempo che piff era interessata a entrare a comprare un 30% dell'inter quindi capite anche come si storpiano documenti e si cerca di utilizzare tutto per raccontarvi sempre la solita favola vedremo come finirà continuate a ridere poi vediamo vediamo come cosa succederà nei prossimi mesi fa tutto molto ridere e aspettiamo il correre il tiktok tiktok del tempo che continua 26 novembre 26 novembre sveglia 26 novembre siamo già al 26 novembre vediamo vediamo allora un po' di vostri messaggi li andiamo a recuperare comunque vedere Lukaku così sorridente è un bel vedere è una bella iniezione di fiducia Pietro un po' in controtendenza scrive spero che Gosens rimanga potrebbe avere una parabola ascendente come successe a Eriksen però se ha davanti quel di Marco lì a cui non puoi rinunciare Eriksen non è davanti praticamente nessuno Marco invece ci dice occhio che il Belgio per me ancora si nasconde non ha schierato Doku che è un fulmine e poi con Lukaku potrebbero essere devastanti prima partita molto deludente adesso aspettiamoli a vedere col Marocco Alvin Perrone sì giocatori veloci ma in che ruolo siano più bravi di Adamat Traorena fase difensiva l'Inter vuole terzini che sappiano difendere in primis con propensione a spingersi in avanti a parte che lo metti a partita in corso da Matt Traoreti spacca la partita Anthony Magnoni buon pomeriggio carissimo finalmente un'ottima notizia adesso continuità ci vuole grazie per le notizie vere per la professionalità che ci metti sempre se continuiamo se continuiamo con la politica di costringere i giocatori a partire da un lato e non portare a termine gli accordi presi con i giocatori come è successo nell'affare di Bala Rick Stole però sei fuori strada la situazione di Bala te l'abbiamo spiegata da tempo De Paul Musso Nandez sono trattative che poi non vengono chiuse ma anche perché non c'è la disponibilità della controparte a chiudere o ci sono delle offerte migliori Joe 3 speriamo bene il Lukaku l'importante che sia completamente guarito per non avere altre ricadute Saverio Savino a me personalmente fa impazzire Frimpong abbiamo parlato prima grande velocità e dribbling fisicamente non ha lo strapotere di Doomfries avrei anche dubbi sulla fase difensiva ma credo sia veramente da tenere d'occhio speriamo si rimette in forma al più presto Lukaku per la Supercoppa italiana e conquistare il primo trofeo del 2023 tra l'altro sono stati comunicati gli orari si giocherà le 20 italiane il 18 gennaio a Riad ciao Marco parli spesso di cifre intorno ai 40 per Doomfries a me pare una follia eh ti dico che c'è chi dice anche 60 Luca Milani Adama in Italia potrebbe spaccare in questo mercato di scadenza ti fa una bella squadra Adama Soyunco Grimaldo un altro giocatore che piace ma su cui c'è grandissima concorrenza il terzino spagnolo del Benfica non vedo l'ora di vederlo in campo per vedere come reagisce se è recuperato del tutto Toro 10 Ciao Marco Shark ma perché si continua a parlare di fascia sinistra dove hai Di Marco e soprattutto Gosens non ha quasi mai giocato eppure gol al derby gol vittoria a Barcellona secondo me dovremmo guardare altri ruoli e io l'ho detto primo ruolo da vedere è l'attacco perché Correa non convince e speriamo che Lukaku si riprenda Maurigno infatti abbiamo vinto il campionato con Hakimi ma tant'è i giocatori veloci servono sempre Singo Leonardo come caratteristiche è quasi uguale a Dumfries ma parliamoci seriamente Dumfries è molto più forte di Singo neanche Paragone dai Bellanova è troppo piccolo ancora ma io tutte queste queste qualità di Dumfries onestamente non le ho viste ultimamente concordo pienamente sul tuo pensiero per i tipi di giocatori che servirebbero in squadra Fabio Massimo ti seguo da un mese sono contento di averti conosciuto meglio tardi che mai saluti da Barcellona si sono ripresi dall'eliminazione della Champions Domenico mi dice solo tu puoi convincere i dirigenti a prendere Adamat Traoré Cristiano no Cristiano Abbondi ho visto l'Olanda Dumfries è in un'involuzione incredibile già lo era nelle ultime partite di campionato preoccupante speriamo in una grande ripresa è anche lui d'accordo sulla mia teoria bravo bravissimo la nostra l'Inter serve velocità Jerry Boomer mi spiace essere poco attivo nello scrivere è importante che sei sempre al nostro fianco a proposito iscrivetevi al canale attivate la campanellina mettete like condividete il video speriamo che Lukaku si ripigli ne abbiamo davvero bisogno Turam sarebbe un ottimo colpo ad Amatro Re lo terrei d'occhio per quanto riguarda Gosen spero rimanga e lo proverei anche sulla destra Paolo Cuore Nerazzur hai ragione su tutto comunque a gennaio la società deve fare in fretta altrimenti rimarremo a secco però deve uscire qualcuno ragazzi per fare arrivare qualcuno deve uscire qualcuno ma visto che è il weekend del Black Friday un giocatore riusciamo a prenderlo non credo che ci siano delle offerte sui giocatori ti voglio sul carro della nazionale giapponese si puntano gli ottavi vediamo cosa riusciranno a fare certamente la Germania adesso spalle al muro bravo Francesco Gaetano ci dà una notizia che mi sono dimenticato Cialovar ha rinnovato fino al 2028 quindi il Chelsea punta fortemente però magari potrebbe prestarlo per farlo crescere buongiorno Marco a tutti i cuori nerazzurri Joe 3 Maria forza Inter vediamo chi ha comprato l'Inter facciamo i seri godiamoci il mondiale la società sa fare il suo grazie sempre Marco per le parole giuste in questo mondo del mercato ho la sensazione che la nostra società non ha più programmi perché Cristian Iorio mi sembra che insomma anche i risultati parlino ottima notizia per Luca speriamo bene gran gol di Richarlison Martina sto vedendo il video di stamattina adesso ore 21 periodo di tanti impegni non vado a letto senza sentire le tue notizie ma per le dirette e le live serali arriveranno anche quelle adesso ci organizziamo abbiamo una serie di ospiti che ci hanno dato conferma adesso faremo qualcosa di interessante comunque mi fido di Piero Ausilio lui ci sa fare sul mercato Daniele Polizzi Luigi Fantauzzo grazie Barza sei il migliore ormai come molti sicuramente non sento nessuno solo te perché è di cialtronate io non so cosa farmele voglio solo notizie vere e solo tu ce le dai a proposito quelli che continuano a dire gli abbiamo detto guarda che cante è in scadenza giugno cosa dite in presito a giugno a gennaio e poi si può comprare a giugno è in scadenza cialtroni per non parliarne del nuovo passato remoto fecimo fecimo dai andate a una scuola serale poi parlate di mercato imparate a parlare in italiano fecimo andiamo 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 in edicola c'è la grande paura di Neymar che può essere fuori per il colpo alla caviglia e sarebbe una tegola pesantissima per il Brasile ai Neymar la prima pagina il titolo della gazzetta il suo mondiale potrebbe essere finito il Brasile trema l'Argentina stasera chiamata a una reazione poi Inter subito Musa Scalvini per l'estate Milan su Ziyech e Awar andiamo all'interno Ney e fuori Brasile nei guai è il momento più difficile sempre problemi alle caviglie caviglie di cristallo però c'è un Richarlison mi sembra in grande spolvero oramai più l'Argentina tra Messico e nuvole Lautaro sarà come una finale con la spinta di Diego ieri erano due anni dalla sua morte e lo ricordiamo sicuramente come una stella assoluta in campo fuori con tanti problemi ma di un di un uomo che ha sempre lottato anche sbagliando ma rimarrà nella storia del calcio come una delle stelle più brillanti gioca anche la Francia con la Danimarca vedremo se Turam avrà spazio e poi andiamo alla pagina dedicata all'Inter occhio a sottovalutare i giapponesi CR7 ancora in cerca di un ingaggio dal Portogallo ci arriva la notizia anche che Joao Felix vuole cambiare squadra un Joao Felix valutato 50 magari in prestito all'inizio vi piacerebbe o no? Scalvini il sogno per l'estate adesso si punta su Musa mentre Seba Esposito potrebbe andare alla Salernitana l'Atalantino e l'Americano profili perfetti per età e qualità servirà a cedere in estate Correa e Dunfri svia non sarà rivoluzione ma tra gennaio e giugno l'Inter sarà chiamata a un restyling fisiologico dei nuovi giocatori scadenza solo a pochi verrà offerto il rinnovo Skriniar Dzeko Darmian e Kordaz sono i prescelti ci abbiamo messo anche D'Ambrosio noi ma l'Inter non è chiamata a programmare in anticipo Scalvini è il prescelto 19 anni già 29 presenze in A può ricoprire anche ruoli diversi anche a centro campo per Musa è un nome spendibile già per gennaio ma le giuste condizioni che vi abbiamo spiegato che non ci sono dovrebbe uscire almeno un giocatore nel ruolo poi si dovrebbe trovare l'incaso con la formula e poi certo dovesse arrivare un'offerta convincente per l'accessione di Correa già a gennaio l'Inter avrebbe anche i soldi da reinvestire subito su Musa eppure per tentare lo spring per Marco Sturam e adesso quanto lo vende a 50 Correa sulla schivandina di Marotta Ausilio sono presenti diversi dossier si fanno altri nomi Tommaso Baldanzi trequartista dell'Empoli e Salvatore Esposito prodotto dell'Inter fratello di Seba che ha la SPAL e piace molto è un nome che non ci dispiace tra l'altro fuori gioco semiautomatico presto anche in Serie A Corriere dello Sport non parla praticamente di Inter guardiamo la prima pagina Leo non tradirci da me se mi aspetto la reazione del campione Canigio esclusivo Scaloni insiste con Di Maria e Lautaro Di Bala resta in panchina Stati Uniti Iran sarà scontro totale poi la Francia di Giroud paura di Eriksen chiudiamo con tutto sport se riusciamo anche qui poco dedicato alle milanesi cerchiamo di fare una live nel pomeriggio Cordoba suggerisce Lucumì e non è male ci vediamo poi più tardi